Provarci con tutti i mezzi a disposizione, fino all'ultimo nel calcio non c'è nulla di scontato, non è una scienza esatta, il Gela è pronto a dare battaglia domani alla capolista indiscussa del campionato, quel troina di Beppe Pagana che viaggia come un espresso, una vera e propria macchina da guerra e i risultati ottenuti fin qui ne sono la testimonianza più evidente. I biancazzurri del tecnico Nicola Terranova stanno attraversando un periodo assai deficitario, la vittoria manca da parecchio tempo e nelle ultime tre gare da quando siede in panchina l'allenatore trapanese sono arrivati solo due punti e domenica scorsa si è toccato il fondo con la sconfitta subita a Roccella per 3 a 1 e adesso più che guardare in alto bisogna allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. La cosa più importante adesso è cercare di ritrovare l'umore e l'umore si ritrova vincendo, purtroppo non c'è arma e non c'è medicina migliore, sappiamo di incontrare la squadra alla capolista al momento ma credo che non ci sia una partita più bella, tutti vorrebbero giocare questa partita perché dimostri con questa squadra alla gente, fai capire quanto vale veramente che purtroppo fino adesso non l'abbiamo fatto vedere. Come state? Come avete lavorato durante la settimana? Quali sono le vostre condizioni soprattutto mentali, di motivazioni? È una pecca che noi abbiamo e dobbiamo sicuramente cercare di migliorare perché la tecnica, la qualità sicuramente non è quello che ci manca e dobbiamo cercare di ricompattarci, di fare forza per ritrovare l'umore giusto. La partita di domani avrà inizio alle 15 e sarà diretta da Mario Milana di Trapani. Un invito rivolto al pubblico a sostenere in massa questa squadra soprattutto in momenti di difficoltà come questo. Ma dobbiamo essere anche bravi noi con i risultati a farli venire allo stadio, giustamente non gli si può rimproverare nulla a loro perché non l'abbiamo dimostrato e non siamo stati bravi noi a farli venire. Sicuramente già da domenica faremo il massimo per farli tornare allo stadio. Le partite di domani sono le seguenti. La classifica è la seguente. Troina 44 punti, Vibonese, Ige Virtus e Nocerina 34, Acireale 31, Ercolanese 30, San Cataldese e Cittanovese 26 punti, Gela 25, Gelbison e Messina 23, Palazzone Portici 21, Roccella 19 punti, Ebolitana 16, Palmese 15. Chiudono Isola Caporizzuto e Paceco con 7 punti.